allora ciao a tutti 2 settembre ieri vi ho detto che c'era la prima piantina che era sboccata dal terreno oggi vi faccio vedere che cosa sta succedendo giro la telecamera allora questa che vedete qui era quella di ieri che ancora con il suo semino che si sta portando su nel frattempo ce n'è una seconda spero che si veda qui al centro proprio che è uscita qui ce n'è ancora un'altra si riesce a vedere si capisce dalla da quella parte un po verdina proprio al centro che sta uscendo anche lì si sta portando via il semino e qui ce n'è una quarta che sta uscendo un quarto cipressino piccolo e niente ne abbiamo piantati 25 finora di cipressi speriamo insomma che tutti e 25 riescano insomma ad uscire dal terreno nel frattempo vi faccio anche vedere ci sono tutti questi semini di cui questi stanno tutti germinando hanno tutti la radice la radichetta non so se si vede bene in realtà proviamo a vedere così qualcosa si vede che sta hanno la radice e come ho già scritto ieri su un altro post se se volete io questi semi di regalo ne ho veramente tanti questi sono solo una parte di quelli che ho gli altri sono ancora in frigo a bernalizzare però veramente bari e provincia se volete io li regalo molto volentieri ci rivediamo prende un appuntamento e ve li passo poi insomma li curate voi e nulla anche perché questi sono già pronti va bene vi riaggiorno vediamo come come va questa questa semina e niente ciao ciao